Grazie a una trick del solito Franceschino Camarda e a un gol al primo minuto di Miras Pereira, altro giovane talento sul quale dedicheremo più avanti magari uno speciale. Il Milan Under 16 si aggiudica così il primo posto nel girone, lo vedete lì, bello in alto, 4 punti sull'Atalanta, 6 sull'Inter che però hanno ancora una partita in meno ma poco conta, oramai i nostri giovincelli sono irraggiungibili quindi primo posto nel girone, adesso poi si dovranno scontrare nelle finali con le altre vincenti, credo le prime due di ogni girone se non sbaglio, correggetemi qua sotto. Spero questa volta di riuscire a portarvi qualche gol, quelli di Camarda sappiamo che sono molto difficili da reperire ma sul gol di Miras Pereira qualcosina spero di poter fare, vi farò comunque sapere a breve. Sono appena uscite poi le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, l'unico titolare in campo Magic Mike Mignan, si diceva che avrebbe dovuto giocare Tatarusano negli ultimi minuti, io su Sorère avevo comprato un Tatarusano, peccato che non ha giocato, sennò guadagnavo qualcosa, ma meglio così, meglio Magic Mike Mignan importa, non sottovalutiamo troppo il Bologna, anche se speriamo che non si infortuni, non succeda niente, facciamogli scongiuri. Per il resto Florenzi, Calulu, Ciao, Ballotouret, punto virgola, Vrancs, Pobega, Salema Kers, De Ketelare, Rebic e Oregi. Tutti grandi gol ad or di quest'anno in campo, vediamo se riesce a segnare qualcuno, l'importante comunque è portare a casa la vittoria, mi immagino che negli ultimi 20-30 minuti daranno poi un po' spazio ai titolari. Anche per questo video è tutto, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.